Buongiorno a tutti, con questo video tutorial andremo a simulare una domanda di assegnazione di provvisione interprovinciale per far vedere come si compila appunto questa domanda. Andiamo immediatamente alla presentazione della domanda della mobilità in ricarico di fatto e andiamo alla compilazione. Entriamo e facciamo subito sull'informativa sulla privacy, clicchiamo di aver letto e accettato i termini e le condizioni legali. Facciamo clic su questo tasto avanti e si entra dapprima in un'analografica dove ci saranno i dati personali dell'utente che fa domanda. Cliccando ancora avanti entriamo in questa schermata dove è disponibile la scelta dell'ordine di scuola per cui si vuole fare la domanda di assegnazione provvisoria. Si sceglie per esempio scuola secondaria di secondo grado. E quindi abbiamo la possibilità di scegliere tra le tre ipotesi, per esempio quella di assegnazione provvisoria e si sceglie la provincia. Noi scendiamo per esempio la provincia di Cosenza e facciamo inserisci. Così abbiamo inserito la domanda, come vedete, assegnazione provvisoria per scuola di secondo grado proprio per la provincia di Cosenza. E possiamo compilare le varie sezioni, per esempio per una precedenza se si ha un figlio inferiore ai sei anni, al punto nove si può rispondere sì, in modo che si ha la precedenza per il punto nove. Dopodiché possiamo procedere, chiudere la sezione D e andare sulla sezione F dove chiediamo di congiungimento nel comune, scegliamo un comune, per esempio il comune di Paola e andiamo a scegliere il comune di Paola per la precedenza. Così e indichiamo che abbiamo figli di età inferiore ai sei anni, per esempio uno e anche questa schermata è fatta salva. andiamo obbligatoriamente, vi ricordo sempre che nella sezione H obbligatoriamente dovete dire che tipo di posto scegliete, per esempio posto normale e cliccate qui, altrimenti non potrete mai fare salva. Dopodiché, importantissimo è anche la sezione G2 dove per esempio potrete scegliere se chiedere cattedre articolate su più scuole e per esempio si può scegliere tra cattedre tra scuole di uno stesso comune o anche cattedre tra scuole di comune diversi, per esempio si clicca qui e così si procede. Se si è docenti part-time si può cliccare sì alla risposta docenti part-time e dire quante ore di docente part-time si hanno, per esempio nel mio caso è no. E poi se chiedete per esempio la preferenza, il punto 23, la preferenza per la scuola di adulti, potete dire se vuole dei corsi serali e rispondere sì. E così via date le risposte a secondo le vostre esigenze. Dopodiché si può, chiedendo queste sezioni, chiedendo le sezioni, ecco sezione F eccetera, tutte le sezioni, verificare se ci sono altre sezioni da fare. Per esempio, se avete altre classi di concorso o ordine di gradimento di più domande che avete presentato. Io ne presento una, dunque non ho un ordine di gradimento. A questo punto posso fare salva e passare, aver effettuato l'operazione con successo e passare alle preferenze. Ora, vi ricordo che delle preferenze dovete aggiungere necessariamente verso il comune di congiungimento, dovete andare a inserire il comune, prima di altri comuni, il comune di di ricongiungimento e dunque andate a cercare il comune di Paola, andate nei vari distretti fino a trovare il distretto che contiene il comune di Paola e fate questa scelta, che è una scelta obbligatoria se si vuole inserire, se si vogliono inserire altri comuni, perché ecco qui il comune di Paola, o scegliete il comune di Paola o scuole, per esempio potete fare la scelta del liceo scientifico di Paola e lo scegliete e vedete che subito compare, ma anche quella proprio del comune poi della città di Paola, per poter poi, per esempio, mettere altri comuni come quello di Cetraro, eccetera. E così potete compilare, secondo le vostre preferenze, la lista in ordine di scuola, comuni, distretti che preferite. Potete poi anche chiudere scegliendo l'intera provincia di Cosenza, per esempio. Ecco, questo è un esempio di come compilare la domanda e tenete conto che poi, oltre le preferenze potete fare tranquillamente il salva, però ci sono anche gli allegati da inserire. Gli allegati che sono tutte le dichiarazioni che avete già inserito nella sezione gestioni allegati, che potete riprendere da questo menù a tettina. Io per esempio ce ne ho uno solo, basta fare per esempio così, ma non è il caso di inserire l'allegato D, chiaramente, per le assegnazioni provvisore, ma tutte le dichiarazioni riguardanti le esigenze di famiglia. Vi ringraziamo per aver seguito questo video tutorial, speriamo che sia stato utile per la vostra compilazione. Faremo altri video tutorial e vi chiediamo di seguirci nei nostri canali social, YouTube e Facebook e di iscrivervi a questi canali, perché faremo dirette anche rivolte proprio alle utilizzazioni e assiniazioni provvisorie. Un saluto a tutti quanti.